Puoi andare direttamente Scusami, con quale vado con questo? Sì, sì, no, no, già sta già andando C'è il cosettino rosso? Ok, buonasera a tutti Ok, sto registrando Buonasera a tutti, siamo qui alla Locanda dei Girasoli è una splendida serata, è il 7 gennaio e abbiamo uno chef d'eccezione qui da sermoneta per noi chiamo Anna che sta appunto mettendo in pratica una splendida ricetta che si chiama tagliolini al trombolotto e bottarga, giusto? Tagliolini al trombolotto e bottarga Spieghiamo il piatto, è un carboidrato proteico che funziona come un appetizzatore, tutto a crudo quindi qui dentro c'è tutto quello che serve all'organismo per stare bene quindi abbiamo i carboidrati con la pasta abbiamo gli omega 3 con la bottarga abbiamo il peperoncino che è il principio attivo della capsicina giusto? la cipolla, l'aio, la repetella è importante il trombolotto che è un limone la sermonella è il ciclos limo di Cayetane è incrociato con il marangolo che è l'arancia selvatica questo è un piatto praticamente che serve a stare bene allo spirito e con lo stomaco giusto? è un piatto completamente a crudo è meraviglioso che sia a crudo meraviglioso si può mangiare da oggi solo alla locanda di Girasoli prossimamente è Giorgio Calabrese Occhio Stivali o Valerio alla locanda di Girasoli si può mangiare questo piatto da oggi in poi venite tutti quanti perché ci fa piacere il pasto grazie eccolo qua che ci aspetta grazie grazie Anna chi ha detto che non siamo bravi a fare un piatto di pasta e finiamo col dire la cosa migliore è la più semplice ma rende la cosa semplice e resta la cosa più difficile giusto? mi si adegua? bene sei troppo veloce grazie grazie anche ai signori è la signora eh? io sono Eva Marco Eva Eva tu chi sei Anna? tu sei Anna tu sei Anna io pure della locanda di Girasoli direttrice di sala giusto? assistente Fino Castro Interinal Medieval Musical di Fabio Stivali ok